Insegnamento a catena Cerchio medianico K attraverso Marco, guida psichica Io sono in tutti voi, basta che ne siate realmente convinti e che mi troviate in voi stessi. Lì io sarò a suggerirvi, amatevi, amatevi gli uni gli altri, siate voi stessi l'amore. Sentite in voi la corrente vitale e il fluire della vita universale, sentitelo in voi, coscienti, che non è illusione ma la sola, suprema realtà di ognuno. Guida filosofica Siate quindi consapevoli che la realtà non è ciò che appare ma ciò che è. Guida interiore Guida psichica Così voi non dovete attendere ma cercare in voi stessi. Non dovete pronunciarvi ma ascoltare ed ascoltarvi. Non dovete essere solo soggetti della verità ma anche oggetti. Non dovete essere schiavi di voi stessi ma paghi degli altri che sono la vostra realtà. Non dovete imprecare ma pregare. Non dovete onorare né venerare ma ritrovare e riconoscere al fine di credere veramente. Non dovete credere ma essere pronti a ricredervi. Non dovete solo trovare ma ritrovare. Non dovete solo tacere ma anche essere voi a parlare. Voi a prendere una posizione. Non dovete sentirvi strumenti del vostro karma ma anche autori. Non dovete attendervi la liberazione da parte di alcuno. Liberate voi stessi. Non dovete augurare a parole ma dimostrare con i fatti. Non dovete vivere di fantasia ma della realtà. E questa è la realtà.